Musica E buonasera ragazzi bentornati finalmente dopo tanto sul canale Abbiamo ufficialmente concluso il capitolo vacanze e ora siamo pronti a dare il meglio di noi qui su youtube Anche e soprattutto in preparazione all'arrivo di ultra la luce Ma veniamo a noi Nel video di oggi come ho rialetto dal titolo cercheremo di darvi qualche consiglio per completare l'armatura del sostizio degli eroi Ottimizzando le attività legate agli obiettivi richiesti e ottenere quindi i pezzi più facilmente Intanto per chi non sa di cosa stiamo parlando il sostizio degli eroi è l'evento conclusivo di ogni anno di gioco Che è iniziato l'11 di agosto e durerà fino all'8 di settembre Solo durante questo evento è possibile ottenere il set di armature del sostizio completando alcuni obiettivi legati ad ogni pezzo I livelli di completamento delle armature sono 3 Inizialmente riceveremo le armature rare, quelle a sfondo blu Completati i relativi obiettivi queste si potenzieranno per diventare leggendarie E assumeranno l'aspetto del set vero e proprio Completati anche gli obiettivi di questi pezzi avremmo completato le armature Tuttavia queste possono essere ulteriormente migliorate per ottenere i bagliori Ovvero quegli effetti di luce ad arco, solari o a vuoto che vanno a recordare il set Per potenziare i vari livelli sappiate che gli obiettivi sono praticamente gli stessi per tutte le classi L'unica differenza sono le richieste riguardo alle razze dei nemici da uccidere Se per esempio il casco dello stregone ci chiederà di uccidere 100 cabal Sul titano potrebbero essere 100 caduti o qualche altro nemico Inoltre prima di iniziare dovete sapere che quest'anno è stato implementato un aiuto Per chi volesse completare le armature per più di un personaggio Infatti se avete già completato un set i progressi sul secondo PG saliranno al doppio della velocità E così via con il terzo per cui la velocità sarà triplicata Tuttavia da quello che ho visto giocando penso che Bungie abbia fatto qualche errore Perché ad esempio io ho ricevuto il buff del terzo PG sia sul primo che sul secondo set di armature Ma andiamo ora a parlare nel dettaglio di come completare al meglio le nostre armature Prima di tutto per ottenere il set completo dovrete andare da Eva che vi donerà il casco E la quest del sostizio che vi chiederà di completare una ZEE L'attività legata all'evento startabile dalla torre Vi consiglio quindi di cercare di completare nel frattempo gli obiettivi del casco Ovvero effettuare 50 uccisioni precise e uccidere 100 nemici di una determinata razza Ovviamente sperano che siate fortunati e la troviate nella ZEE Personalmente tralasciando le meccaniche dell'attività e concentrandomi sul completamento del casco Sono riuscito a finire in una sola zona Considerando però che avevo il bonus dei progressi per 3 In caso non riusciate a completarlo non vi preoccupate Perché avrete modo di fargliere le uccisioni rimanenti nelle altre attività Ottenuti quindi tutti i pezzi avremo due tipi di obiettivi da completare I completamenti delle attività e le uccisioni In particolare ci verrà chiesto di completare 5 partite in crogiolo o in azzardo 5 assalti, 5 avventure e 5 eventi pubblici Ora considerate che le attività che meno si possono ottimizzare sono le avventure e gli eventi pubblici Questo perché per assalti e crogiolo ci verrà richiesto anche di effettuare delle uccisioni specificatamente in queste attività Mentre per avventure e eventi pubblici possiamo solo concentrarsi sulle uccisioni con la super e le sfere elementali Sta quindi a voi decidere se lasciare eventi e avventure per ultime o completarle subito In caso voleste però farle subito lasciate pure stare i nemici e puntate a completarle il più velocemente possibile Dato che comunque le sfere elementali e le uccisioni con la super verranno completate passivamente durante le altre attività Io sono quindi partito dal crogiolo che vi consiglio rispetto ad azzardo perché ci verrà chiesto anche di uccidere 25 guardiani in una di queste due attività E ovviamente in crogiolo la cosa è molto più rapida Inoltre dovremo anche raccogliere 100 sfere di un elemento specifico in base al personaggio Per questo vi basterà solamente fare attenzione durante le partite e raccogliere le sfere che vedete a terra Tuttavia in caso verso la terza o quarta partita quando sicuramente avrete ucciso i 25 guardiani e vi mancassero ancora tante sfere Munitevi di un'arma di quell'elemento e andate in azzardo dove certi nemici non mancano A questo punto io sono passato agli assalti Qui oltre ai 5 completamente vi verrà richiesto di raccogliere 100 sfere Come al solito di un elemento diverso in base al personaggio In 5 assalti non dovreste assolutamente avere problemi a riguardo Perciò il mio consiglio è di concentrarvi sulle uccisioni con la super Che volendo potete anche far corrispondere all'elemento delle sfere richieste per facilitare il tutto Durante gli assalti quindi cercate di utilizzare la super per pulizia e non per il danno In modo da completare facilmente anche le 50 uccisioni richieste Ovviamente non serve che lo dica ma tenete d'occhio gli obiettivi E in caso di abbiate terminati prima dei 5 assalti potete liberamente spedronare i rimanenti Per ultima rimane la ZEE Dove dovremmo uccidere 50 combattenti, 50 nemici con una sottoclasse dell'elemento descritto E aprire 10 pacchetti del sostizio Per quanto riguarda le uccisioni non penso abbiate bisogno di particolari istruzioni Mentre per i pacchetti ho qualche consiglio da darvi Per chi non lo sapesse i pacchetti del sostizio si ottengono dalle casse finali della ZEE Quindi per ottenerne di più avremo bisogno di più casse Durante l'evento quindi cercate di uccidere più mini boss possibili Perché il numero di quelli uccisi corrisponderà al numero delle casse che sponeranno in giro per la mappa Inoltre per trovarli più facilmente appena scade il tempo Cercate di posizionarvi in un punto da alto della mappa per avere un ottimo visuale Io per esempio vado sempre sulla torre di sinistra del grande edificio rosso al centro A questo punto terminate tutte le attività quasi sicuramente avrete anche raccolto le 400 storie elementari richieste E completato le armature rare Per quanto riguarda poi quelle leggendari gli obiettivi saranno ben più impegnativi Tuttavia il concetto di base per completarli più velocemente è sempre lo stesso Concentrarsi sulle richieste specifiche delle varie attività e completare quelle più generiche passivamente Quindi ancora una volta iniziare dal crogiolo per le 100 uccisioni di guardiani con armi dell'elemento stabilito E per le 150 uccisioni in crogiolo con la super Poi assalti per le 600 uccisioni con la sottoclasse giornaliera e per le 300 sfere elementali Successivamente le 10 partite in azzardo che sono effettivamente le più pesanti In cui però potete concentrarvi sulle 300 uccisioni con le armi di un certo elemento Tocca poi ai 10 eventi eroci che potete unire alle 5 pattuglie Attivando quelle di raccolta o quelle di eliminazione mentre fate un evento E che sono molto semplici e veloci Infine andate nella ZEE per i 200 combattenti, le 200 sfere e i 20 boss specifici di questa attività L'unica scomodità è che i boss richiesti sono quelli finali e non c'è quindi modo per farli più velocemente Tuttavia potete approfittarne per finire gli obiettivi generici Ovvero le 300 uccisioni di una certa razza utilizzando la sottoclasse giornaliera I 2000 colpi di grazia elementari e le 1000 sfere da raccogliere In ogni caso non dovreste aver bisogno di fare altre attività una volta uccisi i 20 boss E se avete seguito questo ordine dovreste aver completato tutti quanti gli obiettivi Una volta completate quindi le armature leggendarie potrete cimentarvi nella conquista dei bagliori Che però richiederanno sforzi ben maggiori Trovate quindi altri guardiani che debbano fare le vostre attività Magari anche tra le squadre della companion Perché per ottenere tutti e 5 i bagliori dovrete Completare un cala maestro quindi al 1080 di luce Finire la segreta sulla luna affostare l'eresia Vincere 7 partite nelle prove di esilide non necessariamente arrivando al faro E completare l'attività sulla luna al tale del tormento Per la quale avrete le alternative Completarla una volta a livello massimo o 3 volte ad un livello qualsiasi Quindi ragazzi questi erano i miei consigli per ottenere le armature del sostizio Io spero vi possano essere utili ma per qualsiasi domanda non esitate pure a scriverci nei commenti Detto questo io spero che il video vi sia piaciuto Se è così stato lasciate like, commentate e condividetelo E noi ci vediamo alla prossima Ciao